Sono su TikTok, conta quasi 850.000 followers, uno straordinario successo social che gli ha fatto guadagnare l'appellativo di prof influencer. Il suo nome, quello vero, è Vincenzo Schettini, uno dei docenti di fisica più amati del momento. Con le sue video lezioni pubblicate sul web è riuscito a far avvicinare alla materia, ostica per definizione, migliaia di giovani. Un entusiasmo testimoniato dagli studenti anche questa mattina in occasione della sua visita all'ITESLE Settore Carafa di Andria, dove ha presentato il suo libro ai ragazzi dell'istituto e di altre scuole medie e superiori della città. A fare l'onore di casa, il dirigente Vito Amatulli. La materia della fisica è sempre stata piuttosto negletta, sicuramente negli istituti dove non costituisce un riferimento concreto, diretto e dove nel curriculum non assorge a un ruolo predominante. L'intervento di un divulgatore che ha ridotto la disciplina ad elementi estremamente semplici, sicuramente ha contribuito a realizzare quelle occasioni, grazie alle quali anche i studenti un po' più renitenti rispetto alla conoscenza della materia, si sono avvicinati e stanno procedendo verso traguardi sicuramente più ambiziosi. Aspetto giovanile, ciuffori belle e una spiccata ironia, il professor Schettini sembra aver trovato la formula giusta per catturare l'attenzione dei ragazzi. Spiegare i concetti molto spesso difficili o addirittura incomprensibili della fisica in modo elementare e coinvolgente. Il segreto è partire dal concetto in maniera semplice, quindi ad esempio attraverso un esperimento, attraverso qualcosa di immediato che si può anche realizzare a casa, perché poi la cosa interessante della fisica è che è una materia che si presta all'esperimento, cioè alla realizzazione veloce di qualcosa che ti fa catturare il concetto, attrae la tua attenzione, ti fa concentrare su quello che devi fare e poi da quel punto si può partire con la formula, l'unità di misura, la risoluzione del problema. Quindi è qualcosa di adatto a tutte le età, anche per i bambini, come ha detto Parisi, come ha detto il premio Nobel. Un metodo di insegnamento molto lontano dalla didattica tradizionale che sta appassionando non solo giovani studenti, ma anche tantissimi adulti. Tutto il successo che è arrivato non è arrivato solamente dalle scuole, è arrivato anche dai genitori, dai colleghi, ma io ho un sacco di colleghi che mi seguono, che mi amano e mi vogliono bene, mi scrivono e bravo, ci ispirano, eccetera, eccetera, e soprattutto dalla gente comune che sia appassionata alla scienza, cioè ricevere un messaggio, io dicevo centinaia di messaggi al giorno, ma ricevere un messaggio da un camionista che ti dice io la sera quando finisco di lavorare mi fermo e guardo i suoi video, dice guardo i suoi video in Instagram e imparo, ricevere un messaggio da una nonna che dice io ad 85 anni sto imparando la fisica, non l'ho mai studiata e adesso la faccio con i miei nipoti, che valore ha, ha un valore grandissimo.